So perfettamente che prima di poter parlare di un argomento, una persona debba avere un'esperienza diretta con quell'argomento e poi tirare le dovute conclusioni. Ecco perché oggi vi porto la mia primissima esperienza con un PC tutto AMD. A questo punto vi starete chiedendo, G, in che senso un PC tutto AMD? Sì, un PC tutto AMD con precisamente una scheda video AMD, una RX 6700 XT Sapphire Pulse. Per chi mi conosce e mi segue sa che io non ho mai provato un sistema fatto interamente da componenti della Casa Rossa. Infatti la mia prima scheda video è stata una GTX 970 e da allora fino ad oggi, fino all'acquisto della mia 3080, ho provato soltanto schede video Nvidia. Ma sull'internet ci sono tante voci, i driver di AMD sono buggati, l'interfaccia utente non è così pulita, ma Nvidia va meglio in qualsiasi altra istanza. Beh, oggi vedremo in effetti se questa cosa è così. Prima però di guardare i dati è doveroso ringraziare gli amici di Ollo Store che mi hanno permesso di provare, ecco qui, questo PC che vedete proprio qui dietro di me. La build che ho provato è stata studiata per il gaming, infatti monta un Ryzen 5 5600 X, una RX 6700 XT, una B550 Gaming Carbon Wi-Fi di MSI, una scheda madre più che abbastanza per tenere a bada un 5600 X. Il dissipatore è un Kraken X63, dissipatore a limito con radiatore da 280 mm che si è comportato decisamente molto bene per la dissipazione del processore. L'alimentatore utilizzato è un C750 DNZ XT, componente comunque decisamente buono che sappiamo essere di buona fattura. Un SSD NVMe da 1TB e 16GB di RAM di XPG adatta, sono precisamente le D60G, perché la G è importante. Sarò sincero con voi, io conoscevo Ollo Store prima di questa collaborazione, ma non avevo idea che assemblasse anche PC da gaming. Infatti lo conoscevo più che altro per il materiale fotografico, ma quando mi hanno proposto di fare questa recensione ho subito pensato Dov'è la magagna? Di solito un negozio non specializzato in prodotti di informatica, prodotti tech, prodotti da gaming, diciamo, non fa un lavoro eccelso nel consegnare un prodotto di un determinato tipo a un determinato target di utenti. Però sono stato decisamente stupito. Il PC che mi è arrivato, a parte essere molto molto carino, perché con uno stile minimal mi ha decisamente colpito, un cable management fatto decisamente bene, non ci sono criticità gravi, però avevo intenzione di fare loro una piccolissima tirata d'orecchi. La 6700 XT, avendo due connettori, uno da 8 pin e uno da 6 pin, è stata collegata soltanto con un cavo PCI Express. Sappiamo bene che un cavo PCI Express riesce a portare 150 Watt di potenza e i cavi decisamente di ottima fattura riescono ad estendere questo power range fino a circa 200 Watt. Però lì, diciamo, siamo praticamente al limite, perché c'è un certo amperaggio che passa attraverso quel cavo e il tutto potrebbe risultare in odore di bruciato nei mesi successivi. Però, come vedremo poi dai dati, la 6700 XT riesce praticamente a rimanere sotto un determinato vattaggio, sotto un determinato consumo di potenza, quindi non ci sono stati problemi da questo punto di vista. Quindi al posto di una tirata d'orecchi vi farò semplicemente un... potevate fare meglio, avete fatto bene comunque. Parliamo ora della mia esperienza. Sinceramente parlando, io non sapevo cosa aspettarmi. Questo perché, avendo sempre avuto a che fare in principio con schede video Nvidia e solo nell'ultimo anno con chip grafici AMD, perché io ho avuto un 3400G e al momento ho un 5700G nel mio PC da streaming, la mia prima domanda quando ho acceso il PC è stata Ma io adesso i driver grafici, da dove li scarico? Per fortuna, il PC una volta acceso era praticamente pronto per l'uso. Adrenaline era già lì sul desktop che mi aspettava, ho dovuto scaricare appunto soltanto Steam, altri client di giochi, Epic per esempio, ho dovuto scaricare solo qualche benchmark per fare i miei test e per il resto il tutto è andato abbastanza liscio. Si dice molto spesso che i driver AMD, soprattutto i driver grafici, non siano all'altezza di quelli di Nvidia. E in effetti c'è stato un piccolissimo problema che mi ha fatto pensare che o in effetti i driver grafici sono seriamente buggati o c'è stata, sapete, la tempesta perfetta, cioè un prodotto che non ha dei driver perfetti si è andato a unire a un altro prodotto che non ha dei driver grafici perfetti. Sto parlando di quando ho collegato il PC di Allostore alla scheda di acquisizione per poi streamare il tutto su Twitch, perché io questi test li faccio in live, quindi non c'è assolutamente modo per il quale i test siano, sapete, contraffatti o comunque falsati, perché poi sarebbe effettivamente stupido dire una cosa e poi sull'internet si scopre facilmente che quella cosa non sia vera. Comunque volevo mettere a schermo un grafico delle prestazioni, quello proprio di AMD e non so perché la scheda di acquisizione non mi riconosceva precisamente quel tipo di grafico se provavo a duplicare lo schermo, che è il metodo con il quale si utilizza la scheda di acquisizione in questione. Ad ogni modo nessun problema, ho scaricato Afterburner e potete vedere un pochettino il riassunto delle prestazioni. La 6700 XT è una scheda video che sinceramente parlando mi ha sorpreso. Potremmo dire che è paragonabile a una 3070 in molte istanze. Poi sappiamo benissimo che al giorno d'oggi che compriate una scheda video AMD o compriate una scheda video Nvidia fondamentalmente non sbagliate. Ci sono però dei giochi che favoriscono AMD, giochi che favoriscono Nvidia e non è assolutamente nulla di strano. Abbiamo scoperto l'uovo di Colombo potremmo dire. Ma sono felicissimo di dire che non ho avuto problemi di sorta. Se non con Cyberpunk, ma tutti hanno problemi con Cyberpunk, anche con una 3080. La scheda video, sebbene avesse solo due ventole e io l'abbia provata comunque in un periodo dell'anno in cui la temperatura, sapete, dell'ambiente non è tra le più basse, si è comportata decisamente bene. Credo che il picco raggiunto siano stati 70 gradi per la scheda video e sappiamo comunque che le schede video AMD sono meno suscettibili al taglio di frequenze rispetto alle schede video Nvidia. Anche perché su Warzone, per farvi capire che credo sia stato lo scenario peggiore, la scheda video ha raggiunto comunque i 2 GHz e 5 quasi di frequenza. Quindi tanta tanta roba con un consumo massimo, se non sbaglio, di 180 Watt. Oltretutto, essendo questo un PC da gaming, c'è da dire che io l'ho testato un pochettino in ogni stanza che mi potesse venire in mente, quindi gaming e benchmark sintetici. E si comporta dannatamente bene in risoluzione QHD, ma anche in risoluzione Full HD. Attenzione, sebbene il 5600X non sia il processore migliore per quanto riguarda le prestazioni vere e proprie, si è comportato decisamente bene quando si trattava di giocare a una risoluzione un po' più alta del Full HD, ma anche in Full HD non è andato male. Stare vedendo in questo momento sicuramente Warzone in risoluzione QHD e Warzone in risoluzione Full HD. Credevo che la mia esperienza sarebbe stata molto molto più traumatica, ma io vi ripeto, per chi ha avuto già esperienze pregresse con una scheda video AMD e specialmente una scheda video della serie 6000, che quindi è stata ripulita di tutte le impedenze, se vogliamo dire, grafiche o comunque i problemi software che ci sono stati e che hanno afflitto AMD nel passato, per me questa è stata la primissima volta che ho avuto a che fare con una scheda video high-end, perché non stiamo parlando di un chip grafico integrato che bene o male riesci a controllare con qualsiasi scheda madre, riesci a controllare con qualsiasi dissipatore. Qui stiamo parlando di una scheda video che comunque riusciva a tirare 180W dall'alimentatore, che comunque doveva avere un ottimo connubio di costruzione fisica, perché doveva dissipare calore mantenendo alcune prestazioni e comunque avere un comparto driver che potesse aiutarla, a fare tutto in maniera efficiente, attenzione, apro e chiudo parentesi, non c'è che dire, sono rimasto decisamente colpito da questa scheda video e soprattutto sono rimasto colpito da come la mia esperienza sia stata, in effetti senza intoppi, a parte, vi ripeto, il problema iniziale con la scheda di acquisizione, ma lì suppongo sia stata colpa anche di Elgato, perché sappiamo che Elgato ogni tanto puzzicchia un po' dal punto di vista dei driver. Essendo questo un PC da gaming, appunto, non ho attivato cose strane, però so che attivando il SEM, quindi lo Smart Access Memory, si potrebbe avere incremento prestazionale per quanto riguarda i videogiochi, che va dal 10% al 13% più o meno. Quindi il framerate che vedete a schermo potete tranquillamente moltiplicarlo per un 10% o massimo un 12% o 13% e potrete avere qualche prestazione in più che su un processore che, come ho detto, non è il più veloce di casa AMD, fa decisamente comodo. La cosa che poi vorrei un attimo sottolineare è come il prodotto che mi sia arrivato tra le mani fosse decisamente rifinito bene, anche dal punto, soprattutto dal punto di vista dell'assemblaggio, perché, come ho detto, molte volte i negozi che non sono prettamente famosissimi e specializzati in un ambito di nicchia come sia quello dell'assemblaggio dei WC fanno dei gran casini. Hollow Store non è assolutamente uno di questi. Oltretutto, se voleste acquistare da Hollow Store, ci sono qui dei comodissimi codici sconto che potete applicare al carrello una volta completato l'acquisto, così magari da avere comunque, sapete, un risparmio riguardo a qualcosina. Il PC che ho provato fondamentalmente è stato testato. Ha delle ottime componenti che appunto hanno garanzia, sono assemblate come si deve e io non posso assolutamente lamentarmi del prodotto appunto che mi è arrivato tra le mani. Devo solamente ringraziare gli amici di Hollow Store per la professionalità nell'assemblaggio del PC e nel setup totale. Oltretutto, cosa molto interessante, mi mandano le scatole. Cioè, a me a casa sono arrivati due scatoloni. Uno con il PC già assemblato e poi mi è arrivato un altro scatolone con all'interno appunto le scatole dei componenti che magari, non so, se volete fare una collezione o comunque c'è qualcosina da mandare in assistenza, la scatola serve. Quindi mi raccomando, se ordinate un PC, non buttate le scatole. È la prima cosa che dovete tenere a mente. Detto ciò, ragazzi, io ringrazio ancora Hollow Store. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra. Lo so che probabilmente per molti di voi, come ho detto, starò parlando di ovvietà. Per me è stata la primissima volta. Devo essere sincero, le RX 7000 cominciano ad essere molto più appetibili da questo punto di vista, vedendo anche che una eventuale RTX 4080 o 4090 potrebbe arrivare a consumare davvero un bel po' di watt. Quindi magari fare un salto verso la squadra russa non è così proibitivo come poteva esserlo negli anni passati. Grazie mille per aver seguito il video. Io vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e accendere la campanella. C'è il link di Hollow Store in descrizione. Non dimenticate di acquistare qualcosina anche con i codici sconto. Quindi nulla, ci vediamo alla prossima. Grazie mille ancora agli amici di Hollow Store per avermi dato l'opportunità di provare uno dei loro fantastici sistemi. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao belli. Ciao.